Ciao a tutti dal vostro coach Fabrizio Ferri, in questo video faccio una recensione per quello che riguarda un prodotto che ho acquistato su Prozis. Voi sapete che sono affiliato, il mio coupon è FERRI10 per avere lo sconto del 10%, ma a parte questo questo discorso ogni tanto faccio dei test per capire se i prodotti che si trovano sullo store possono essere validi. Beh, purtroppo non è sempre tutto perfetto, tutto valido, infatti questa volta sono rimasto molto deluso dalla cinta. La cinta Prozis devo dire che non è il massimo della riuscita, perché praticamente sono rimasto delusissimo dal fatto che stavo finendo un esercizio neanche troppo impegnativo, era un circuito fatto con rematore e lat machine e quando mi sono andato a togliere la cinta per il recupero mi si è aperta, è partito il supporto, vedete questo inferro, quello sopra adesso non c'è più e già sento che iniziano a temolare anche gli altri pezzi. Essendo diciamo di una pelle non proprio eccelsa, anzi forse più che altro potrei dire quasi un cartone perché non mi sembra sia proprio pelle, sono rimasto molto deluso. In più la parte interna, una volta che si indossa, questa è già dalla terza volta, ci si accorge che si perdono tutti i peletti. Quindi ho acquistato un'altra cinta perché voglio vedere qual è la migliore. Farò quindi un paragone fra questa e quella, però soltanto dopo che l'ho provata. Questa qua intanto io me la boccio. Poi, per chi magari è la salzatena un po' più leggera vorrebbe anche andare bene, però per chi vuole spingere tanto, se si saltano i supporti di ferro è evidente che non è la cinta che ci andiamo ad immaginare. Se i contenuti che al pubblico ti piacciono iscriviti a WKT Fitness TV, clicca sulla campanellina e non perderti nessun aggiornamento. Ciao a tutti, buon fitness dal vostro coach Fabrizio Ferri. Ciao a tutti.